Come si chiamano? Canonico e Santoli. Eh ormai vabbè ti sei imparato. Gennaro e Gerardo, Gennaro Canonico. Sì. Gerardo Santoli. Bravissimo. Sono stato bravo. Ma i Cannolicchi e Santoli chi erano? Santoli e Cannolicchi chi erano? Canonico. Ma come si chiamano loro? Canonico e Santoli. Sicuro. Lui è santo. E lui è canonico. Lui si chiama Gennaro. No. Gennaro. Gennaro. Ripetiamo tutto. E lui si chiama Gè. E lui si chiama Gè. Quindi Natto e Gè. Quindi mi hanno promesso che quando faranno un vino per il mondo della notte lo chiameranno Gè Gè. E se faranno un altro tipo, una tipologia diversa di vino la chiameranno Pavilion Ruscio. E lo sappiamo noi perché. Vabbè. Vabbè. Ciao. Viva Canonico e Santoli. Viva Gennaro e Gerardo. Viva Gè Gè. Viva Pavilion Ruscio. Viva Vellino. Viva Vellino Provincia. Viva la Campania. Viva l'Italia. Viva l'Europa. Viva il mondo. Viva l'universo. Viva Gennaro. Viva Gennaro. Ciao. Ciao.